Ciao a tutti, di momenti davvero fantastici sulla mia bici quest'anno, ne ho passati molti, ma quello migliore, quello che mi rimarrà sempre impresso, è sicuramente la vittoria a Lenzeraide davanti al pubblico di casa a metà agosto. È stata una gara super serrata, c'era un sacco di gente che mi sosteneva, un sacco di amici e sì, mi ricordo quando ho tagliato il traguardo, primo, con le braccia al cielo, è stata davvero una sensazione incredibile, puoi festeggiare con i familiari, è stato davvero il mio momento sulla bici 2019. E per te, qual è stato il miglior momento della bici 2019?